Io sono contento, ripeto, della prestazione della squadra, poi per me abbiamo fatto un miglior partita del campionato. Purtroppo abbiamo fatto errori che ci sono stati gol, abbiamo fatto errori che non li abbiamo fatti. Io vorrei che la squadra giocasse sempre con lo stesso spirito e con la stessa applicazione. Ci sono stati anche errori individuali che ci stanno nel gioco di calcio. Io ripeto, come squadra, per me la squadra si è espressa bene, ha avuto la voglia di fare, sono soddisfatto. Poi è normale che bisogna aggiustare qualche movimento, qualche cosa. Io non sono preoccupato. Io ripeto il concetto, per me se la squadra gioca sempre così sono felice. Il problema è di riuscire a fare le stesse prestazioni. Io ripeto, noi per me abbiamo fatto grande partita, poi come numeri ci danno pure, sono numeri tutti positivi. Poi il discorso che ci siamo trovati su 3-0 e ripeto, non sappiamo perché visto che dominavamo la partita, giocavamo quello che volevamo. Purtroppo dobbiamo migliorare nei ultimi 20 metri e nei 20 metri finali. Lì il discorso che abbiamo giocato finora con Capuano e Romagnoli come difensori centrali, ora con Brosco e Bocchetti che da dieci anni ha fatto esterno a sinistra, è normale che qualche difficoltà si poteva trovare. Grazie. 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 Grazie.